Christy Loyal è una ragazza che nel 2011 ha 26 anni e soffre di uno strano dolore che gli parte dal piede destro. Pensa magari a un lipoma infiammato, ma invece ha un tumore maligno alla pelle. Ed è una situazione molto grave, tanto che la giovane dovrà subire l'amputazione del piede, praticamente sotto il ginocchio destro, per riuscire a sopravvivere. Un po' per scherzo e un po' per sdrammatizzare la situazione, chiede ai medici se dopo la procedura potrà avere indietro il piede, e i medici seriamente le rispondono che sì, in realtà basta solo compilare un pochino di incartamenti, ed è perfettamente possibile. Ed ecco che, grazie all'aiuto di un museo di osteologia, da questo piede sono state estratte, ripulite ed incollate le ossa, che hanno un account Instagram. Bene, oggi, prendendo ispirazione dalla storia di Christy, vediamo che cosa succede qui in Italia, dopo un'amputazione, agli organi che sono stati per l'appunto amputati, in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Può succedere per via di una malformazione congenita che si ha sin dalla nascita, oppure a causa di un incidente o di una malattia, come nel caso di Christy. Ma ricordiamo che, banalmente, anche l'estrazione di un dente di fatto costituisce l'amputazione di un organo vivente. Cosa succede, qui in Italia, dopo l'amputazione? Beh, soprattutto in particolar modo se avvenuto in caso di malattia, l'organo amputato è considerato un rifiuto sanitario pericoloso, e pertanto sottoposto a uno smaltimento, a una procedura di smaltimento, come se fosse un rifiuto speciale. O quando parliamo di elementi di una certa dimensione o riconoscibilità, ad esempio un braccio o una gamba, allora si procederà a una tumulazione o a una cremazione, come se si trattasse di un'intera salma. E infatti, non oltre le 48 ore dall'intervento, l'attuale regolamento di polizia mortuaria concede all'amputato, la possibilità di andare a richiedere una specifica procedura di tumulazione o cremazione, qualora lo desiderasse. Ad esempio per motivi religiosi, è inoltre possibile chiedere l'inumazione presso una tomba di famiglia, magari la tomba che in futuro sarà destinata poi ad accogliere le restanti spoglie mortali dell'amputato. Oppure se, per esempio, la disposizione di fine vita dell'amputato fosse per cremazione e spargimento delle ceneri in mare, sarà possibile applicare la medesima procedura solo all'arto che è stato amputato. La dispersione delle ceneri può avvenire in determinate aree predisposte dei cimiteri, oppure in alcuni boschi, in mare… tutto quanto è regolamentato da specifiche normative locali inerenti il comune dove è avvenuto il decesso o quello dove si richiede di effettuare la dispersione delle ceneri. E voi che cosa ne pensate? Se in futuro, a causa di un incidente, di una malattia o di qualcos'altro, doveste subire un'amputazione, cosa vorreste fare dell'arto che vi viene amputato? Non ve ne importerebbe nulla e andrebbe bene che vada a finire smaltito come un rifiuto speciale? Oppure vorreste che venisse, non lo so, inumato, cremato o altro? Parliamone! Bene, io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro della cultura, del folklore o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!